Dietro ogni segnalazione che arriva alla nostra redazione c'è l'esasperazione del cittadino che non ottiene risposte. È il caso della saccenza al residente in via Consiglio che sostiene di avere in vano e ripetutamente richiesto a Girgentiacque di completare l'intervento effettuato nei mesi scorsi alla rete idrica. Ha riparato il guasto in queste condizioni che è stato lasciato il tratto di via Consiglio nel quartiere della Marina, ossia senza la necessaria posa dell'asfalto. E infatti l'aria è stata recintata alla meno peggio. Il problema è che dalle buche escono e circolano indisturbati diversi topi e i residenti sono costretti a barricarsi nelle loro abitazioni. È inconcepibile che dobbiamo vivere con il terrore di ritrovarci in casa qualche topo, ha dichiarato la saccenza che si è rivolta questa mattina alla nostra redazione per denunciare la situazione, ossia il mancato completamento dell'intervento da parte del gestore del servizio idrico integrato. Peraltro pare che sia stato il mezzo utilizzato dalla ditta che ha effettuato la riparazione della rete idrica a danneggiare parte della scalinata di via Consiglio. E scatta anche dalla mentela sul mancato controllo da parte del comune di Sciacca su come vengano eseguite le manutenzioni in città, ma anche sugli interventi di propria competenza non eseguiti. I residenti di via Consiglio fanno riferimento ad un'area ancora invasta alle serpaglie. Siamo in completo abbandono, hanno denunciato, nonostante si tratti di una zona suggestiva del centro storico Saccense. Ci spostiamo in periferia con un altro problema legato alla mancata manutenzione di girgenti acque. Siamo in contrada a Bordea dove anche oggi con il turno di erogazione idrica, oltre all'acqua che si disperde lungo la strada, continua l'erosione dell'asfalto che ha già creato una buca profondissima. La perdita è lì da mesi e mesi e nessuno, ma grado le segnalazioni o i sopralluoghi di operai del gestore in zona, si è degnato, dichiarano i residenti e la nostra redazione, di effettuare la riparazione. A preoccupare i residenti è la buca che si è creata, dove sprofondano le gomme delle auto, e che per un ciclo motore potrebbe rappresentare un autentico trampolino per una rovinosa caduta del conducente. Inutile sottolineare che urge un intervento di sistemazione. Chiudiamo sempre con le segnalazioni dei cittadini che in giro per la città documentano, cellulari alla mano, il degrado che passa sotto i loro occhi. Quello con cui chiudiamo è il caso degli alberi che costeggiano Piazza Mariano Rossi, dove le erbacce non sono state tagliate e la mancata cura delle stesse è diventata l'alibi per gli incivili per abbandonarvi la spazzatura. Si chiedono i cittadini come faccia questa zona della città a non avere un operatore ecologico addetto che si occupi di mantenere pulita almeno l'aria attigua al salotto della città.